Musica Ben ritrovati con una nuova stagione di Conto su di te, questo nostro format informativo che la nostra emittente vi propone in collaborazione con UbiBanca. Vi porteremo appunto nel mondo della finanza e vi ci porteremo con quelli che sono poi i protagonisti ovviamente di questo mondo. Allora diamo il benvenuto nella nostra trasmissione a Silvano Manella, direttore della macroarea di UbiBanca, quindi quella che comprende Lazio, Toscana e Umbria, il cuore del centro Italia. Sono 245 gli sportelli in quest'area del nostro paese, 8 i centri impresa, 500 mila i clienti che voi servite. In Toscana Ubi conta 89 filiali, 3 direzioni territoriali che sono Firenze e Toscana Nord, Arezzo e Grosseto, Siena e Livorno. Ecco questa è un po' la fotografia dal punto di vista geografico e dei numeri, ecco direttore, però noi vorremmo capire a due anni di distanza dall'arrivo di Ubi ad Arezzo com'è l'andamento quantomeno nella nostra Toscana. L'andamento nella nostra Toscana direi che è positivo. UbiBanca ha spiccato il volo in Toscana e soprattutto ad Arezzo. Siamo arrivati nel maggio del 2017, nel momento in cui abbiamo acquisito le tre Good Bank, di cui Banca Etruria per la Toscana, Banca Marche e Carichietti. Abbiamo scaldato i motori, abbiamo preparato ad organizzarci nei sei mesi e nel novembre del 2017 abbiamo fuso le tre Good Bank all'interno del gruppo UbiBanca, creando appunto questa macro area Lazio, Toscana e Umbria, da me diretta, e una macro area che è partita con oltre 18 miliardi di asset, oltre 7 miliardi di impieghi, 10 miliardi e 6 di raccolta, con una quota di mercato del 6%. In Toscana siamo alla misura del 6%. Direi che veramente noi che non eravamo poco presenti in Toscana con Banca Etruria abbiamo veramente, come ho detto prima, spiccato il volo. Ecco, con quali criteri però vi state muovendo in questa zona che come ci raccontava per voi era un po' vergine, rispetto alla vostra esperienza del passato? Allora, ci stiamo muovendo cercando di stare accanto ai clienti, andare a sostenere sia le imprese sia le famiglie, ma non solo sostenere imprese e famiglie, ma anche finanziare a fondo perduto progetti che possono rappresentare valore per tutta la collettività. Nel primo anno di vita della macro area abbiamo erogato finanziamenti per 920 milioni, di cui 510 milioni li abbiamo erogato alle piccole e medie imprese con fatturato fino a 250 milioni e 410 milioni li abbiamo erogato alle famiglie e abbiamo raccolto 860 milioni. Pertanto la fiducia è tornata e per quanto ottiene proprio alla Toscana di questi 920 milioni che sono stati erogati, ben 200 sono stati erogati in Toscana, di cui 83 milioni ad Arezzo e la raccolta è stata di 270 milioni. Qui proprio dalla fiducia è stata di più la raccolta degli impieghi, nonostante la nostra volontà di essere accanto ad imprese e famiglie e nonostante che negli ultimi due trimestri del 2018 ci sia stato un rallentamento dell'economia, rallentamento che è continuato anche ad inizio del 2019, però quello che nel nostro modo di far banca vogliamo continuare a sostenere imprese e famiglie anche nei primi 4 mesi abbiamo erogato 360 milioni con una crescita del 15% e abbiamo raccolto 310 milioni. Quindi insomma sono numeri per i quali leggo una sua ovviamente trasparente soddisfazione perché appunto due anni non sono poi un tempo così lungo per affermarsi comunque in un territorio. Ecco, quando noi citiamo la parola risparmio, indubbiamente per tutti noi, anche dato il momento storico, è sicuramente un qualcosa a cui fare davvero tanta attenzione, insomma le orecchie si drizzano sempre dei risparmiatori. E allora qual è il vostro approccio su questo tema? Il nostro approccio rientra nel far banca per bene. Nel far banca per bene quello che vogliamo è tutelare il risparmio. E come lo vogliamo tutelare? Lo tuteliamo attraverso la protezione e la diversificazione. A tal proposito abbiamo delle società che possono poi fare questo tipo di attività sia di protezione che di diversificazione. Per quanto riguarda la protezione abbiamo BAPA Assicurazioni che è controllata da noi al 100% e che attraverso le polizze, oltre ad essere uno strumento di protezione, è anche uno strumento che serve per la pianificazione di patrimoni in termini di successione con delle opportunità per i clienti stessi. Nell'ambito della diversificazione il gruppo UbiBanca nel 2001 ha fatto una joint venture con gli americani di Prudential. Prudential è il primo gruppo assicurativo negli Stati Uniti e è il nono gruppo a livello mondiale per la gestione del risparmio. Ha analisti presenti in tutto il mondo, ha 140 anni di storia e se si vuole diversificare c'è bisogno di avere delle società che siano presenti nel mondo, che abbiano analisti nel mondo. E con questo, con prudenza, siamo in grado di poterlo offrire ai nostri clienti. Se pensiamo che l'Italia rappresenta lo 0,4% dell'equity mondiale e rappresenta il 4% dei bond mondiali. E' aumentata, secondo lei, con l'attenzione anche a tutti questi parametri, al fatto che appunto una banca possa offrire anche questo tipo di servizio nella scelta del proprio risparmio? Direi proprio di sì, perché l'abbiamo visto poi dei dati in Toscana e più la raccolta rispetto agli impieghi e questo è il segnale che vuol dire che c'è attenzione da parte della clientela e che vuole diversificare nel mondo. Quindi un risparmiatore che riesce sempre di più a scegliere chi fa, come diceva lei, banca per bene. Qualche dato ce l'ha un pochino già anticipato, ma Arezzo, la nostra Arezzo, come si colloca in questo contesto? Allora, nel momento in cui siamo partiti il contesto era difficile, il contesto legato alla mancata fiducia da parte dei subordinatisti, azionisti della vecchia Banca Etruria. Abbiamo impostato tutto un lavoro di recupero di questa fiducia. L'abbiamo fatto, come ho detto prima, attraverso la vicinanza ad imprese e famiglie, ma anche attraverso andare a finanziare a fondo perduto progetti che hanno valore per la collettività. Gli ne cito qualche uno di questi progetti che abbiamo fatto. Abbiamo emesso il primo social bond in Toscana, dove una parte degli interessi è stata data a fondo perduto a favore del Calcet, integrata da un finanziamento per l'acquisto di un macchinario ad alta tecnologia. Trattasi di un mammografo che serve per la diagnosi precoce del tumore alla mammella. È stato donato all'ospedale San Donato di Arezzo, tenendo presente che questo macchinario ce l'ha solamente un altro ospedale in tutta Italia. Abbiamo avuto un incontro con i medici dell'ospedale e i ritorni sono veramente di entusiasmo, perché sono aumentate le visite. Aumentare le visite vuol dire che c'è un'attenzione. Se riusciamo prima a diagnosticare un tumore ad una donna, significa che nel momento in cui si fanno poi gli interventi, sono interventi minimali, non invasivi. E questo se le nostre donne hanno la possibilità di essere poi dopo nell'ambito della famiglia serene, ne va poi per il bene di tutta la famiglia. Ricordo bene questo progetto, scusi l'ho interrotta, del social bond. Tra l'altro credo che la parte un pochino più grossa è arrivata proprio da Arezzo. Non so se ricordo male, ma... Sì, sì, era solamente in Toscana e avevamo previsto di farlo in 15 giorni. Dopo tre giorni abbiamo avuto la chiusura anticipata di questo social bond. E qui veramente un grazie a tutti i cittadini che l'hanno poi dopo, diciamo, sottoscritto. E in termini comunque di interessi, erano interessi di mercato. Quindi insomma, cominciate a diventare anche voi un po' aretini. Diciamo, mi passi un po' questa battuta, perché comunque scegliere il Calcit significa arrivare davvero al cuore di questa città, con questo bellissimo progetto. Ma non solo questo, cioè altre cose che abbiamo fatto, tipo abbiamo permesso la ristrutturazione e l'apertura dei rosoni della cattedrale. E anche qui veramente abbiamo dato luce a questa cattedrale dove cittadini e turisti hanno la possibilità di poter entrare in questa bellissima cattedrale vedere queste opere d'arte e con questa nuova luce è un valore in più. E questo ci fa onore di aver fatto un'opera di questo tipo. Altre cose che abbiamo fatto, l'educazione finanziaria. Stiamo andando nelle scuole ad insegnare ai ragazzi come utilizzare bene il denaro, a non sperpelarlo, a non giocarlo con le slot machine. Ecco, tutte attività che creano, a mio avviso, valore e puntiamo tantissimo sui giovani atleti e società sportive che noi sponsorizziamo. Ha visto l'Arezzo è ricchissima di società, è un numero importante. Ho visto, ho visto, ho visto. E deve comunque, io mi auguro che anche l'Arezzo, che siamo sponsor nell'ambito giovanile, in questi giorni è chiamato ad una dura prova e gioca nell'ambito, noi che guardiamo anche alla Toscana, gioca con il Pisa, però auguriamo, essendo sponsor dell'Arezzo, e viva l'Arezzo. Assolutamente. Comunque vincere sempre il migliore. Assolutamente, è un derby, insomma, toscano, che divide un po' in questo caso. E anche da non dimenticare, mi scusi, la fondazione Ivan Bruschi, perché la fondazione Ivan Bruschi, secondo me, è un fiore all'occhiello. Qui c'è stata una donazione da parte di Ivan Bruschi alla banca e questa l'abbiamo voluta mantenere, e la vogliamo mantenere nel tempo, affinché queste opere che stanno all'interno del museo possano essere viste sia dai cittadini, ma anche da tutti i turisti, no? E attirare sempre più gente ad Arezzo. E qui direi che ha insegnato Ivan Bruschi anche con questa sua iniziativa, perché è un uomo che ha iniziato subito a girare nel mondo, con un piede nel borgo, ma con la testa nel mondo. E questo fa veramente onore, noi vogliamo continuare in quest'ottica. E penso che abbia insegnato qualcosa anche agli aretini che nel mondo sono in giro a vendere con degli ottimi risultati. E qui mi riferisco all'oro e anche al settore moda. Ecco, l'ha citato lei, insomma, assolutamente essere un po' il punto di riferimento di questo settore, che comunque continua ad essere il settore trainante della nostra economia, quello dell'oreficeria, anche se, come lo ricordava anche lei, insomma, gli ultimi anni qualche difficoltà l'abbiamo letta, l'export che continua comunque a trainarlo, ma il mercato interno rimane fermo. Ecco, anche in questo mi pare che, tra virgolette, la retinità di UbiBanca si stia assolutamente formando, insomma. Direi proprio di sì. Abbiamo particolare attenzione a questo settore, tenendo presente che abbiamo creato un polo ad Arezzo che serve addirittura a tutta Italia, perché vogliamo mutuare quello che veniva fatto nel campo dell'oro da parte di Banca Etruria, che venga fatto anche nelle altre parti d'Italia dove siamo presenti, che vuol dire Vicenza, Valenza, Marcianise, e lo stiamo facendo con successo. Allora, l'ha citata prima lei questa giornata che viene un po' dedicata appunto ai vostri dipendenti, legata anche allo sport, ma mettendo un po' una lente di ingrandimento, Ubi ha indubbiamente posto anche molta attenzione appunto nella gestione dei propri dipendenti. Sì, quando siamo partiti nel maggio del 2017 c'era esubero di personale, esubero che c'è ancora tuttora, però abbiamo voluto mantenere il posto a tutti. Oggi abbiamo la macro area che ha 1850 persone e abbiamo creato dei poli logistici, soprattutto in Toscana con 489 persone e di queste persone era il 70% di provenienza delle Good Bank e il 30% di Ubi. Pertanto il fatto che abbiamo mantenuto tutto il personale, abbiamo mantenuto i manager, che erano i manager precedenti e ci abbiamo creduto, i risultati stanno arrivando, vuol dire che abbiamo creduto in questo personale. Ricordo anche che Ubi Banca per il quinto anno consecutivo ha avuto il certificato di top employers legato alle politiche delle risorse umane e in particolare al discorso della formazione. Nel 2018 nella nostra macro area abbiamo fatto 116 mila ore di formazione, sia di livello manageriale sia di livello organizzativo. Il direttore Silvano Manella, la parte un po' più umana, quindi meno legata al ruolo ufficiale, ha imparato a conoscere questi Toscani in quanto un po' chiamiamoli pure botoli ringhiosi come ci chiamava Dante, ma che poi hanno un grande cuore? Sì, ho conosciuto e ho imparato tantissime cose. Nei primi mesi ho osservato e ho comunque appreso diversi consigli e mi ricordo un giorno uno mi disse alò e da questo alò qui ho capito, al momento non l'avevo capito, poi me l'ha detto in inglese go 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 e a un certo punto ho capito che dovevo pedalare. Però siamo qui per cercare di costruire insieme una storia di successo. Ci siamo per restare. Grazie mille allora al direttore Silvano Manella, anche per aver creduto, lo ripetiamo, in questo nostro piccolo contributo all'informazione finanziaria che speriamo vada nella direzione giusta, conto su di te in collaborazione con UbiBanca. Questa era la prima puntata del 2019 e quindi appuntamento alla prossima settimana. Grazie. Grazie a lei. Grazie. 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 Grazie.